sicuramente cammino oggi? mi chi? per me si no per me è il venire che lo sbatti cioè è difficilissimo per me io proprio mai cioè io proprio mai hai mai finito? ma io non saprei neanche come fare no esatto si tipo la tartaruga che scopa no non riesco più che altro aspetta tartaruga che scopa e poi fanno 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 che bellissimo quello infatti ce l'adoro